Salve ragazzi, bentornati a le recensioni di, anzi, i tutorial di 21 giochi minuti. Io non recensisco, io faccio un video tutorial. L'avrete già notato ormai. Siamo arrivati al video numero 20, Missione nella foresta. Si tratta di un gioco di bluff, di ruoli segreti, di plomazia, da 4 a 9 giocatori. In questo gioco diciamo che corre voce che i forzuti, i fastidiosi nemici, preparano un attacco ai minuti e bisogna presidiare le vie di accesso alla foresta, no? Quindi alcuni di loro però, di questi forzuti, si sono già infiltrati e bisogna a questo punto, nelle varie missioni, cercare di capire chi è che collabora per aiutare i minuti a difendere la foresta, chi sono invece gli infiltrati forzuti che iniziano a infastidire queste azioni per farle fallire e pianificare la loro invasione. Andiamo a vedere cosa ci serve per questo nuovo gioco. Prepariamoci quindi per queste fantastiche missioni nella foresta e cosa ci serve? Ci serve la carta numero 20, ovviamente. Poi ci serve il dado, un numero di dischetti che va da 2 a 4, dipende da quanti sono i giocatori, poi vedremo nel dettaglio bene come. Poi innanzitutto prendete dei cubi verdi e rossi in quantità differente a seconda di quanti siete a giocare. Come abbiamo detto è da 4 a 9 persone, se giocate in 4 ci servono 3 cubetti verdi e un solo rosso, pian piano che si sale aumentano, in 5 sono 4 cubetti verdi, in 6 sono 4 verdi e 2 rossi, in 7 si aggiunge un verde, in 8 si aggiunge un verde, in 9 si aggiunge un rosso, quindi il massimale è 3 rossi e 6 verdi. Al di là di quanto ne utilizzate, piazzate anche un cubetto verde qui e un rosso qui, sono i segni appunti delle due fazioni, fazione verde e fazione rossa, pian piano che si faranno le varie manche, uno dei due andrà avanti e si vedrà che arriva per primo in fondo e che quindi vincerà la partita. Tenete presente che queste cose servono per sapere qual è la fazione, quindi cosa dobbiamo fare? Le prendiamo, le mettiamo dentro il sacchettino, vengono mischiate, ogni giocatore ne pesca uno e lo tiene segreto, lo guarda e lo tiene segreto, non lo fa vedere agli altri, questo sarà il suo ruolo, ad esempio il pescato rosso, sarà un forzuto, un infiltrato. Quando tutti quanti hanno pescato il loro cubetto, noi sappiamo che è il momento di mettere tutti gli altri cubi dei vari colori, bianco, nero, blu e giallo, sempre all'interno del sacchetto e miscolarli bene, perché ci serviranno dopo per vedere cosa ci servirà per fare le nostre missioni. Ogni round di gioco si svolge attraverso tre fasi, per svolgere queste fasi è necessario che ci sia una guida, il primo turno lo stabilite casualmente, nei turni successivi sarà la guida del turno precedente che deciderà chi sarà la guida del turno successivo. Iniziamo a vedere la prima fase del round di gioco, ricordo anche che nella prima fase e nella seconda fase è assolutamente vietato parlare o comunicare in ogni altro modo con gli altri giocatori, dando informazioni ovviamente su cosa si è, su cosa si fa, soltanto nella terza fase si potrà parlare dicendo alcune cose, ma comunque non troppo specifiche, rimanendo magari un po' sul vago, ad esempio, si può dire chiaramente ah io ho giocato quella cosa lì per farlo fallire, però si possono fare considerazioni, ma quello forse secondo me, secondo me, Giorgio fa parte dei cattivi perché tutte le missioni che ha fatto sono fallite, di questo genere considerazioni si possono fare, non si può essere mai troppo precisi. Torniamo un attimino a vedere quindi alla prima fase. La guida lancia il dado per stabilire quali saranno i cubi missione richiesti in questo round, dopodiché deve scegliere chi saranno gli esploratori nel round, seguendo una determinata tabella. Se si gioca in 4 o 5 si lancia due volte il dado e verranno scelti due esploratori. Se si gioca in 6 o 7 si lancerà tre volte il dado e verranno scelti quattro esploratori. se si gioca in 8 o in 9 si lancia quattro volte il dado e verranno scelti ben cinque esploratori. Dopo ogni lancio di dado la guida mette un disco sulla carta arcipelago nel relativo spazio dei dischi per ricordarsi quale è il risultato uscito e si può mettere chiaramente più dischi sulla stessa casella se fate uscire lo stesso numero. Facciamo un esempio, stiamo giocando in 9 tiro una prima volta prendo il cubetto e lo metto sul 5 poi lo riprendo e lo metto sul 6 poi lo riprendo lo tiro una terza volta e lo metto sull'1 e quest'altro ritorna sul 5 i cubi disegnati sotto ciascuna casella sono quelli richiesti per completare la missione quindi ad ogni disco corrispondono due cubi richiesti i colori dei dischi sono ininfluenti ovviamente scelte voi bianco o nero differente. Cosa abbiamo di fatto? Questa missione vorrebbe blu giallo bianco nero bianco giallo e due volte bianco giallo in totale per fare questa missione ci serviranno tre cubetti bianchi tre cubetti gialli uno blu e uno nero ora sappiamo qual è il nostro target e quindi siamo pronti per andare alla seconda fase una piccola premessa per questa fase per eseguire diciamo i punti che adesso vi andrò ad elencare in maniera adeguata è consigliabile che tutti tranne chi sta eseguendo l'azione abbiano gli occhi chiusi o in alternativa se siete posizionati a un tavolo che lo permette che le operazioni vengano svolte sotto il tavolo in modo che gli altri non vedano bene la guida comincia prendendo il sacchettino dove abbiamo messo tutti i cubetti dei colori possibili che vengono richiesti quindi blu giallo nero e bianco cosa si succede tutti partire dalla guida e tutti gli esploratori che la guida ha nominato pescano quattro cubi missioni a testa in modo che nessun altro possa vederli uno due tre e quattro e mi ritengo così non ha vista dopo che tutti hanno pescato la guida sceglie due cubi missione da tenere in mano e rimette gli altri due nel sacchetto senza che gli altri possano vederli quindi io mi terrò questi e gli altri li ripiazzerò via a questo punto a turno tutti gli esploratori in senso orario a partire da dove è seduta la guida guardano i dischetti che hanno nella loro mano e cosa faranno prendono il sacchetto ne rimettono dentro due senza farsi vedere e gli altri due li metteranno nella mano della guida anche in questo caso senza che questa e che nessun altro possa vedere cosa vi hanno inserito vedete fatto in questo modo la guida tiene ben salda in mano i cubetti suoi e dei vari esploratori e non sa esattamente cosa hanno messo gli altri nessuno dei quattro cubi missione deve essere visto né quello che teniamo né quello che mettiamo a posto quando la guida ha ricevuto tutti i cubi missione dagli esploratori li rivela mettendoli sul tavolo e a questo punto inizia la terza fase io ad esempio rivelo che ho questi cubi qua si verifica innanzitutto se tutti i cubi richiesti sono presenti fra quelli rivelati dalla guida potrebbero essere cene di più non importa l'importante è che ci siano almeno quegli richiesti avevamo detto che ce ne serviva uno blu uno nero tre gialli e tre bianchi abbiamo un blu ben due neri tre bianchi quattro gialli abbiamo soddisfatto le richieste se ci sono tutti quindi la fazione dei minuti si aggiudica il round e facciamo avanzare in un punto il cubetto se per qualche motivo se per qualche motivo manca almeno un cubo mettete che avessimo avuto una condizione di questo genere ok non avremmo avuto i tre cubetti bianchi chiaramente è la fazione dei forzuti che si aggiudica il round e quindi fate avanzare il cubo segnapunti rosso sulle missioni la missione vuol dire che è stata sabotata se nessuno dei due cubi segnapunti raggiunge l'ultima casella della propria riga ovvero la spiaggia sostanzialmente la partita prosegue se uno dei due cubi raggiunge chiaramente l'ultima casella invece la partita finisce e la fazione che è arrivata sulla spiaggia ha vinto la partita se come dicevamo la partita non è finita la guida indica qual è la nuova guida tra i giocatori in gioco ovviamente dirà chi ha la nuova guida e questo inizierà a fare il turno successivo scendendo i suoi esploratori ricordatevi questa è l'unica fase quest'ultima quella in cui vi è consentito fare delle considerazioni lanciare accuse fare domande però non potete comunque far vedere il vostro cubo azione segreto né dire quali cubi avete scelto per la missione non potete dire specificatamente cosa avete scelto vi faccio un esempio non potete dire ah io ho giocato un cubo nero e un cubo giallo no non si può dire però magari potreste provare a scusarvi dicendo scusate non ho messo neanche nulla di utile però non ne ho pescati è vago potrebbe anche essere che state mentendo chi lo sa e niente quindi proseguite con i round successivi se la partita non è terminata quando uno dei due segnapunti raggiunge l'ultima casella rivelate il cubo fazione segreto chi fa parte della fazione che ha raggiunto l'ultima casella vince la partita ora se volete far durare le caselle non sono tantissime come vedete sono tre da una parte e uno due tre quattro e cinque dall'altra vedete voi se volete farla durare un po' di più la partita perché siete molto rapidi e molto esperti potreste provare a dire il primo che raggiunge la spiaggia in modo che la partita sia un pelo più lunga bene abbiamo visto anche quindi questo gioco numero 20 delle missioni della foresta e io vi ricordo prima di salutarci di iscrivervi al nostro canale così attivate la campanellina rimanete sempre aggiornati sui nostri prossimi video siamo arrivati quasi alla fine non volete perdervi proprio l'ultimo video che faremo il prossimo quello dell'epica impresa un dungeon crawler dove rimetteremo in gioco un po' tutte le carte che abbiamo visto prima alla prossima